ciao a tutti come promesso iniziamo con tutte le ricette detox e comunque belle light dopo aver fatto qualche sgarro in questi giorni di pasqua stasera vi faccio vedere una ricetta che mi piace moltissimo che ho scoperto naturalmente in una delle mie vacanze in grecia la feta al forno con pomodorini origano un pochino di cipolla rossa ecco voi la ricetta completa grazie a tutti per completare il piano accompagnatela con un'insalata di chinocchi condita con sale olio e pepe oppure con un'insalata mista classica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti